Due progetti realizzati dall'assessorato al welfare per semplificare le procedure di accesso ai servizi offerti. Si tratta del numero unico del welfare, il contatto telefonico unitario attivato per ottenere informazioni sui servizi e sui progetti relativi ai servizi alla persona e alle politiche attive del lavoro e della nuova app informativa del segretariato sociale Bari Aiuta realizzata per informare i cittadini e la rete informale del terzo settore sui servizi erogati dal comune di Bari in ambito sociale e sociosanitario. Attraverso l'app che è anche aggiornata e costruita col consorzio Elpen2 Progetto Città e con tutta l'equip degli assistenti sociali del segretariato sociale permetterà di accedere a tutte le schede di servizio dei nuovi servizi avviati. Sono più di 100 i servizi che come comune di Bari e come assessorato al welfare abbiamo realizzato in questi anni. Il numero unico Bari Aiuta permetterà attraverso un unico numero a disposizione dei cittadini ma anche delle associazioni e delle altre istituzioni di coloro che lavorano a sostegno del contrasto alle povertà di poter attraverso questo numero esprimere un bisogno e poter essere orientato. Oggi stiamo cercando di risolvere il più possibile il rapporto e l'immediatezza del rapporto con la cittadinanza. Abbiamo iniziato appunto con il welfare e poi i servizi per il lavoro di Porta Futuro. Ampliremo poi la tipologia di servizi anche agli altri ripartizioni.